...dalla linea carta, ferma e chiude le stazioni. Il treno servizio ferroviario metropolitano, linea 2, 42 e 39 in Granitania, proveniente da Piede Ollo e direttore di Passo, delle ore 19.05 e in arrivo al binario 6. Attenzione, avrò canale dalla linea carta, ferma e chiude le stazioni. ...dalla linea carta, ferma e chiude le stazioni. Il treno del genоме 6.05 e il gianetto, linea 3, 45 e la linea carta, vediamo il numero 9.05 e il numero 10.05, proveniente da Napoli Centrale e il tipo ordinario 3. ...dalla linea carta, ferma e chiude le stazioni. ...dalla linea carta, che bene le stazioni dove scarse le stazioni sulle 5.05, su questo treno, sono infelso e richiesto la pietra. ...dalla linea carta, ferma e chiude le stazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.